La signora stava sorseggiando un cappuccino seduta ad un bar e loro la conoscevano bene. La stavano spiando, era la preda perfetta. Così appena si è allontanata in auto sono entrati in azione. In due si sono arrampicati lungo la grondaia e uno faceva da palo per evitare che occhi indiscreti li notassero. Ecco come agivano i cinque soggetti che sono stati arrestati la scorsa notte dei polizotti e del commissariato di Acireale. Erano dei bravi acrobati e sfidavano la forza di gravità, tanto il loro mestiere di ladri lo sapevano fare bene e nel Catanese erano sempre in movimento. Si spostavano da un appartamento all'altro, praticando l'arrampicata e sfondando il vetro delle porte finestre. L'obiettivo? Trafugare alla velocità della luce tutti gli oggetti d'oro presenti nelle abitazioni. In un caso hanno rubato anche la fede del marito deceduto, un dispiacere enorme per una delle vittime. A gestire l'organizzazione erano Gaetano e Salvatore Rapisarda, padre e figlio, insieme con Alfio Barbagallo, che in più di un'occasione ha fatto il palo. Ma c'erano anche Giuseppe Agnello, Martino Rosario, Scialacomo Calandra e Assunta Sebastiana Calabretta. Non solo furti in appartamento, ma anche negli agrumeti. Almeno tre furti di grossi ingenti quantitativi di agrumi, che come sappiamo è un reato che è fortemente sentito nella zona dell'Acese. In un caso armati e con i volti travisati hanno tentato il colpo contro un imprenditore all'ingrosso, che quel giorno aveva incassato circa 10.000 euro. Ma l'aggressione sfumò perché proprio l'imprenditore reagì prontamente. I loro bottini migliori erano sempre comunque gioielli che poi rivendevano ai comproro, in particolare a Mister Bianco, dove è stata trovata una consistente parte degli oggetti trafugati da questi uomini in ragno.